e bello a tutti ragazzi vedo ton che vi parlo quindi state bene sentire edoardo toniolo come volete oggi parleremo di come mi vesto per andare a calcio ok io sono portiere gioco al padova quindi se sono portiere ho i pantaloni da portiere che mi ha portato il babbo natale col numero 1 anche se io uso il 12 eccolo qua dopo ho i guanti da portiere che questi non sono i miei preferiti sono della sogna come i pantaloni e hanno le stecche ripeto non sono i miei preferiti perché sono questi che non hanno le stecche ma mi piacciono molto e sono di hugo gli olis come vedete anche se non è il mio portiere preferito perché è donna nomma ok e dopo qua ho i pantaloncini con lo stemma del padova il chi vuoi con lo stemma del padova che sei un po tolto dopo i calzini molto comodi ieri ho giocato e abbiamo vinto da di tanti abbiamo vinto e questa è la maglia sempre forza padova ora faccio vedere le mie scarpe da calcio ho due paio di scarpe da calcio e uno da calcetto facciamo calcio calcetto e calcio iniziamo con quelle che mi piacciono di meno da calcio eccole sono le vansport sono modello vecchie però riprodotto quelle da calcetto molto belle molto molto bella e allora per oggi è tutto io vi saluto